O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli Afflitti, Tu conosci i miei bisogni, le mie sofferenze, degni a ti divolgere su di me uno sguardo propizio a mio sollievo e conforto. Con l'apparire nella grotta di Lourdes hai voluto che essa divenisse un luogo privilegiato, da dove diffondere le tue grazie, e già molti infelici vi hanno trovato il rimedio alle loro infermità spirituali e corporali. Anch'io vengo pieno di fiducia a implorare i tuoi materni favori. Esaudisci, ottene la Madre, la mia umila preghiera, e colmato dei tuoi benefici mi sforzerò di imitare le tue virtù, per partecipare un giorno alla Tua gloria in Paradiso. Amo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Sia benedetta la Santa Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio. O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli Afflitti, Tu conosci i miei bisogni, le mie sofferenze, degniati di volgere su di me uno sguardo propizio a mio sollievo e conforto. Con l'apparire nella grotta di Lourdes, hai voluto che essa divenisse un luogo privilegiato, da dove diffondere le tue grazie, e già molti infelici li hanno trovato in rimedio alle loro infermità spirituali e corporali. Anch'io vengo pieno di fiducia a implorare i tuoi materni favori. Esaudisci, ottenere a Madre la mia umila preghiera, e colmato dei tuoi benefici mi sforzerò di imitare le tue virtù, per partecipare un giorno alla Tua gloria in Paradiso. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Sino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Sino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Sino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Sia benedetta la Santa Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio. Oh Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, tu conosci i miei bisogni, le mie sofferenze, degniati di volgere su di me uno sguardo propizio a mio sollievo e conforto. Con l'apparire nella grotta di Lourdes, hai voluto che essa divenisse un luogo privilegiato, da dove diffondere le tue grazie, e già molti infelici vi hanno trovato il rimedio alle loro infermità spirituali e corporali. Anch'io vengo pieno di fiducia a implorare i tuoi materni favori. Esaudisci, ottene la Madre, la mia umila preghiera, e colmato dei tuoi benefici mi sforzerò di imitare le tue virtù, per partecipare un giorno alla tua gloria in Paradiso. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Sia benedetta la Santa Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio. Grazie. 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 Grazie.